Aldo, 12 settembre 2020, un luogo a me familiare. Sì, venivo circa dieci anni fa con un poeta, il quale mi ha scritto tante bellissime poesie. Con questa persona abita a Meda, si chiama di cognome Zarba, Oscar Zarba. Io prima venivo di lui, poi l'ho conosciuto in un bosco, esattamente al laghetto della Mordina che sto andando attualmente. Ho conosciuto questo pittore che si è incantato dalla mia presenza. Dopo una settimana, la prima volta che mi ha conosciuto, mi ha scritto una stupenda poesia che rimane tale ciò che ha scritto riguardo alla mia introspezione. Ha riuscito a capire in pochi giorni chi fossi veramente io, un essere non selvatico, che vive da remitta, che vive da solo nei boschi. Sì, perché a me piacciono tantissimo i boschi. Questo sentiero che sto andando pedonalmente, si può farlo ora anche con la bici. E si arriva fino allo stagno superiore, come ho detto prima, dove c'è la cascina mordina, abbandonata da parecchi anni. Ecco, guardare qui com'è bello, non c'è nessuno, perché sono posti poco conosciuti. Io mi ritrovo bene in questa bella tranquillità. Altro che il caos di una città in una giornata così piena di sole, non sarei capace di vivere a Milano o a Rò o in quelle città dove c'è un via vai continuo di persone. Qui mi trovo bene. Ora mi incammino verso il primo ponte, che poi faccio YouTube, della cascina mordina. Saluti da Aldo.